E ora Maristella Curri che ci presenta il programma per quest'anno sociale di Elio Gabalo. Siamo a Fasano presso il circolo Elio Gabalo, fucina di incontri e eventi culturali di ogni tipo con me. Maria Grazia, pinto a cui do il mio benvenuto. Maria Grazia, parliamo intanto della nuova sede perché ci siamo lasciati l'anno scorso, 2012-2013, con la vecchia sede. Adesso invece tutto è cambiato da 22 settembre. Sì, da settembre abbiamo inaugurato questo nuovo posto, abbiamo cercato di arredarlo con la filosofia del riciclo, quindi abbiamo provato a fare l'arredamento da noi cercando di riciclare il più possibile materiali trovati qua e là. Abbiamo inaugurato con una mostra di un nostro socio, Nicola Donaloia, è una mostra fotografica dedicata ad un'importante festa che si tiene in India, Kumbha Mela, e quindi sono scatti che lui ha voluto riportare significativi di questo evento che si tiene in India. Alcuni dei quali sono proprio sulle nostre teste, quindi alle nostre spalle, appese comunque in tutta la sede. Nuova sede, abbiamo detto, possiamo dire anche un incremento probabilmente dei partecipanti, di coloro i quali prendono parte alla vita del circolo, in che modo? Mi dicevi, attraverso intanto questi cinque corsi che hanno preso il via, altri invece prenderanno. Sì, allora, è già partito il corso di Tai Chi e Qigong, che in realtà era una realtà consolidata già dall'anno scorso, e quindi il gruppo ha continuato anche quest'anno e si tiene ogni martedì alle ore 21. Il Qigong e il Tai Chi sono, diciamo, è una pratica che fa capo alla medicina cinese ed è una pratica molto usata appunto in Cina. Poi è partito anche il martedì alle ore 15 il corso di yoga. Poi il lunedì si tiene il corso di spagnolo, però è ancora possibile iscriversi perché siamo appena partiti, un corso di spagnolo di base. Poi il mercoledì partirà un corso di francese e anche qui è ancora possibile iscriversi. E poi stiamo anche cercando partecipanti per un corso di percussioni che ha preso spunto dal progetto che abbiamo fatto l'anno scorso, Suoni e Sapori dal Mondo. Il maestro sarà Cesare Pastanella, quindi chi fosse interessato si terrà anche quello il martedì alle 18.30. Ragazzi, non solo corsi, dicevamo prima, ma c'è tanto altro da scoprire qui all'Elio Gabalo, tra cui mi parlavi di alcuni eventi prossimi musicali. Sì, sì, infatti. Diciamo che la musica è il nostro elemento principale, sì, sì, sì. Quindi abbiamo il 18 ottobre un gruppo americano, Ghost to Falco, e poi il 26 ottobre invece un gruppo proveniente dalla Francia. Quindi anche quest'anno stiamo cercando di dare spazio sia a gruppi italiani, sia a gruppi che provengono da altre parti non solo dell'Europa, ma anche del mondo, insomma. Ti chiederei come reagisce il pubblico dell'Elio Gabalo che è a Fasano. Con entusiasmo. Direi soprattutto da parte di ragazzi molto giovani. Abbiamo un gruppo di ragazzi dai 17 ai 20 anni che ci segue molto e loro sono i primi molto entusiasti che comprano la musica, sentono la musica, sono i primi ad acquistare direttamente dai musicisti i vinili o i cd per ascoltare la loro musica. E questo, diciamo, viene percepito dai musicisti e i musicisti per primi sono molto contenti di suonare in un ambiente fatto in questo modo.